Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci in conferenza stampa a Palazzo d'Orlean insieme all'assessore all'agricoltura Edi Bandiera ha presentato i nuovi bandi a sostegno dell'agricoltura per circa 146 milioni di euro nell'ambito del PSR, il piano di sviluppo rurale 2014-2020. I bandi che saranno pubblicati tra aprile e maggio stanziano 22 milioni per la viabilità rurale, 9 milioni per il contenimento dell'erosione, 40 per gli investimenti nelle aziende agricole, 12,4 per le zone svantaggiate montane e le isole minori, 35 per l'agricoltura biologica, 2,2 per la diversificazione, 3,5 per la conservazione delle risorse genetiche vegetali, 6,5 per il ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua, 5 per gli investimenti non produttivi, 2,4 per la biodiversità, 5 per il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Uno dei bandi che verrà presto pubblicato riguarda la viabilità rurale, ci sono però altre emergenze, la viabilità rurale interpoderale è importante ma è altrettanto importante forse di più la viabilità provinciale, le ex strade dei consorzi di bonifica e quelle provinciali diciamo quelle regolari. Cosa si pensa di fare per migliorare l'accesso alle aziende? No, noi non pensiamo di fare, noi facciamo. Abbiamo stanziato 100 milioni per 70 strade provinciali che saranno sistemate entro sei mesi e questo è stato già oggetto di una conferenza stampa il mese scorso. Oggi abbiamo messo sul territorio 146 milioni di euro per l'agricoltura non soltanto per la viabilità rurale ma anche per il biologico ma anche per aiutare le aziende in zone diseggiate e per una serie di iniziative contro la erosione del terreno. Ci sembra una bella boccata d'ossigeno del nostro assessorato all'agricoltura e allo sviluppo rurale. I bandi partiranno fra due o tre giorni. Abbiamo raccolto suggerimenti da parte delle organizzazioni di categoria, da parte degli stessi imprenditori. Siamo davvero contenti di avere potuto dare questa ulteriore spallata in positivo al settore primario che deve necessariamente essere oggetto di particolari attenzioni e non soltanto a livello locale ma anche dal governo di Roma dal quale ci aspettiamo concreti risultati. Bene i bandi però ci sono ancora in attesa numerosissime aziende, giovani e imprenditori quindi misura 6.1 e 4.1 che sono stati messi a bando tanti anni fa e ancora attendono il risultato. Non solo messi a bando qualche anno fa ma anche in maniera a nostro avviso particolarmente errata, bandi tenuti aperti anche per otto mesi. Questo chiaramente ha comportato un proliferare delle domande e quindi a seguire un proliferare dei contenziosi. Possiamo dare una buona notizia, siamo in attesa di un parere legale per dirmi le ultime questioni ma entro la fine del mese la misura 6.1 sarà pubblicata in via definitiva e forse anche di quest'ultimo parere legale eviteremo contenziosi in futuro e quindi si potrà procedere con una misura importante perché ricordiamo essere a pacchetto collegata con altre misure e quindi un unico bando che di sé pesa come quattro bandi per oltre 200 milioni di euro ma possiamo esprimere soddisfazione nel dire che dopo un lavoro importante fatto partendo da ciò che aveva mereditato nei prossimi giorni tanti agricoltori, presumiamo una stima di circa 1300 giovani agricoltori, avranno lo strumento in mano per potersi insediare per la prima volta in agricoltura. Uno dei temi scottanti che riguardano gli agricoltori che sono sul piede di guerra è il costo dell'acqua in rigua in relazione al fatto che i costi dei consorsi di bonifica dovrebbero essere gradualmente trasferiti su di loro invece che sostenuti dalla regione e molti contenziosi sono aperti a quanto pare per il passato. Assessore, come si risolve il problema? Eh sì, un passato particolarmente gravoso e complicato, come sapete questo governo eredita i consorsi di bonifica con una situazione debitoria che si aggira ad oltre i 100 milioni di euro di debiti, per cui tra i primi atti sui quali siamo messi subito al lavoro ed è un lavoro in fase di conclusione, verrà presentato con un apposito disegno di legge in Parlamento e quello di una nuova norma che riformi i consorsi di bonifica rendendoli ciò per il quale erano stati pensati. Per quanto riguarda il costo dell'acqua conosciamo chiaramente questa situazione, dobbiamo dire che intanto la regione, questo governo ha stanziato nella finanziaria 60 milioni di euro per i consorsi di bonifica come contributo ai consorsi proprio per sostenere le spese e consentiti di non applicare tariffe particolarmente esose. Ricordo anche che queste tariffe oggi sono così alte anche perché la politica negli anni scorsi si è semplicemente limitata a sospendere i ruoli e non a coprirli dal punto di vista economico, quindi non si è fatto pagare un debito di altri anni, lo si è fatto accumulare ed oggi viene presentato in maniera così pesante, pressante e gravosa agli agricoltori. E' chiaro che come sapete navighiamo con un bilancio che è particolarmente asfittico, non abbiamo un grande margine di manovra, solo che anche il Parlamento è particolarmente sensibile a questa tematica, quindi vedremo se nel collegato si riuscirà a fare uno sforzo ulteriore rispetto ai 60 milioni per alleviare questa situazione, ma il tema vero è una riforma per consegnare finalmente all'agricoltore e agli agricoltori siciliani dei consorsi che finalmente possano funzionare con un costo che debba essere veramente politico e che consenta all'agricoltore che vuole l'acqua se un servizio è erogato bene e a costi sostenibili ci consenta di poter erogare questo servizio in maniera ottimale.